Buonasera, incomincia Giona che suona l'eufonium e la nostra classe, la mia classe, suonerà con l'uso del cd perché il metodo che utilizziamo ha il cd che li accompagna nello studio e anche al saggio. Sta per partire? Allora, Giona li farà sentire up and down the stairs. Non si vede la nocchia. 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 Grazie. 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 Grazie.